C'è un'altra donna di cui vi voglio parlare, è protagonista di un bellissimo romanzo storico potremmo dire che è in libreria in questi giorni, l'autore si chiama Giovanni Grasso ed è qui con noi. Benvenuto! Prego si accomodi, ti accomodati, prendo le mie cartuccelle, prego. Ho detto, Giovanni Grasso è giornalista, è anche consigliere per la comunicazione del nostro amatissimo presidente Sergio Mattarella al quale prego di portare tutti i nostri saluti. La storia di cui vi stavo accennando è raccontata in questo Icaro, il volo su Roma. Ho parlato di Ruth, che è la donna a cui accennavo, ma in realtà questa è una bellissima storia d'amore. Tu ti sei imbattuto nella vicenda di Lauro de Bosis, perché Lauro de Bosis, l'uomo che amò Ruth e Ruth riamata, compì nel 1931, il 3 ottobre se non erro, un volo spericolato, dimostrativo, su Roma, beffando l'aviazione fascista. Chi era Lauro? Perché ti sei innamorato della storia d'amore di Lauro de Ruth? Lauro era un poeta, un giovane di 30 anni, con una vita agiata, era figlio di una famiglia molto ricca, la mamma era americana, parlava inglese, era un dandy, un uomo fascinoso. Forse lo possiamo vedere nelle foto, così ce lo ricordiamo meglio. A un certo punto della sua vita si imbatte nel delitto Matteotti, nell'uccisione di questo deputato socialdemocratico da parte dei fascisti, e matura una crisi interiore. E comincia, pur fiancheggiando ufficialmente il regime, fa un po' la primula rossa, cioè fonda una società segreta, fa finta di essere fascista, ma questa piccola società segreta, con il compito di mandare delle circolari per posta a delle persone importanti per invitarle a boicottare il fascismo e così via. A un certo punto della sua vita incontra questa donna a Roma, al Teatro Quirino, era la più grande attrice del teatro americano, Rod Rapper. C'è una particolarità, aveva 17 anni di più di lui. Ecco, pensateci, la vediamo Ruth anche nella slide di foto, Ruth aveva 44 anni, che non sono i 44 anni di oggi. Vedere le foto di quegli anni, ovviamente una signora, ecco una signora. Lui era un giovane impetuoso, pieno di poesia. Comunque scoppia un amore incredibile, folgorante, vanno in America insieme e così via. Soltanto che lui, mentre sono in America, i suoi compagni di lotta vengono scoperti e arrestati. Viene arrestata anche la mamma di Ruth e la mamma di Lauro, perché il ciclostile con cui facevano queste lettere antifasciste era nascosto sotto il letto. Una storia molto drammatica, tutto vero quello che c'è nel libro e quello che non è vero è verosimile. E quindi comincia a maturare l'ossessione, deve fare un gesto di riscatto, deve fare qualche cosa per spingere l'Italia a liberarsi dalla tirannia e dal dittatore. Per cui comincia ad elaborare quest'idea del volo su Roma. Prende qualche ora di lezione, va a Parigi, si impiega come portiere di notte, un uomo molto ironico, nelle lettere brillante, si impiega come portiere di notte, porta la colazione agli ospiti e nel frattempo va in un piccolo campo di aviazione fuori Parigi e prende neanche dieci lezioni di volo su questi biplani. Siamo lì, insomma, con il volo a vista, quindi non c'era una strumentazione. E poi finalmente, proprio 90 anni fa, cioè il novantesimo del volo, quindi anche della morte, con Ruth sempre accanto, decide di fare questo volo dimostrativo, arriva su Roma al tramonto, la bombarda pacificamente con questi 400.000 volantini che invitavano gli italiani a farla finita con il Duce, invitava il re soprattutto a prendere posizione contro il Duce, a riscoprire la propria natura di capo di Stato e così via. E poi, mentre tenta di tornare, ma le possibilità, lui sapeva che, insomma, i tentativi... Cioè lui sapeva che sarebbe... Che era un volo destinato alla morte? Quasi esplicemente, tant'è che prima di partire lascia un bellissimo manoscritto in francese, Storia della mia morte, che viene pubblicato da un giornale belga ed è, tra virgolette, un cambio, perché questo giornale belga finanzia quest'operazione di volo, in cambio vuole avere, qualora fosse vissuto, un'intervista esclusiva, qualora fosse morto, questa storia della mia morte, che è un testo bellissimo e che credo che bisognerebbe anche conoscere nelle scuole. La cosa particolare, chiudo così, che a 26 anni, 25 anni, compone un poema che vince il primo premio, il secondo premio ex equo, quindi il primo premio, la medaglia d'argento, alle Olimpiadi di Amsterdam, perché a quei tempi si premiava anche la poesia, la letteratura. E questo testo è una tragedia in versi che si chiama Icaro, quindi il volo, la caduta, probabilmente erano iscritti nel suo destino. Io mi sono imbattuto in questo personaggio facendo 20 anni fa, 15 anni fa, lo storico, perché avevo curato il carteggio tra Sturzo e Salvemini e nelle loro lettere si parlava di questa impresa, di questo giovane scomparso, della sua compagna, attrice, fedele, così amica dell'Italia, dell'antifascismo, e qui mi sono incuriosito e in questi ultimi anni ho raccolto tutte le reliquie, i documenti, tra l'archivio di Stato, le lettere, eccetera, e poi approfittando, devo dirlo, di 15 giorni in cui ho preso il Covid, per cui ero chiuso in casa, scusate, ve lo devo dire, ho rifiutato la televisione, perché o la televisione o se no non riuscivo a scrivere, quindi chiuso in una specie di cella di camera mia con mia moglie che mi passava i piatti da sotto la coda, ho detto al momento che Ruth e Lauro abbiano una storia. Allora, pensate che lui le scriveva frasi del genere, l'incipit di una lettera, caro angelo, leoncino, piccola leonessa, micetto, amore, fiore, santa, stella, bellezza, giglio, aurea, adorata. Pensate quanto questo ragazzo amava questa donna, lo vediamo in questa clip, una ricostruzione del volo appunto di Lauro De Bosis e poi parliamo ancora di loro due, dichiara lei anche. Roma, ottobre 1931, le otto di sera, un aereo bianco e rosso scende basso sui tetti, a 500 metri di altezza, forse meno, e getta migliaia e migliaia di manifestini, soprattutto su piazza Venezia, sul palazzo dove da due anni è andato a vivere il dittatore, sull'altare della patria, il corso, piazza Colonna, piazza di Spagna, la gente sembra indifferente, pensa a una trovata pubblicitaria, poi capisce e comincia a guardare sempre più trepida, i manifestini sono messaggi antifascisti, il piccolo aereo continua i lanci per mezz'ora, poi si allontana indisturbato. La mattina dopo, i giornali minimizzano la notizia, confinata a una colonna nelle pagine interne. Lui aveva 27 anni, giovane, bello, ricco, l'abbiamo visto nelle foto che vi invito sempre a rimandare, perché è bello poi parlare di queste persone e guardarle negli occhi in qualche modo, insomma, nel modo con il quale possiamo guardarli negli occhi. Ruth, invece abbiamo detto americana, il libro si apre a New York, attrice, votata al teatro e pensate che Ruth, da quanto si racconta e che tu racconti, non aveva mai avuto un uomo prima di lui. No, era una donna della classe agiata new yorkese, una famiglia, il papà era il medico dei VIP, chiamiamoli così, a casa sua c'erano scrittori, pittori, musicisti, politici e lei matura quest'idea del teatro, però aveva quasi una difficoltà psicologica, comunque, ma non voleva, era molto indipendente, non voleva relazioni, per cui prova a entrare in una compagnia, ma l'idea che ci fosse un regista, un altro attore con cui si doveva intrecciare non le piaceva, per cui si inventa, si inventa, riscopre, o comunque porta avanti questa cosa dei monologhi, cioè lei recitava da sola sul palcoscenico, interpretava 5-6 personaggi di femminili, mettendosi uno scialle, cambiando l'espressione, cambiando la voce, c'è un monologo molto famoso in cui lei interpreta tre donne, nonna, mamma e figlia, davanti a un giudice di pace. E chissà, forse per una donna della sua epoca non avere un marito significava la garanzia dell'indipendenza, non può essere che fosse anche... Probabilmente sì, lei non voleva legami, non voleva registi, non voleva attori con cui... Si scriveva i monoli, metteva in scena lei, li scriveva a lei e si faceva la regia di se stessa. Aveva 44 anni, nelle lettere alle sue amiche, ormai da pescontato, che ormai la sua vita comunque è dedicata totalmente al teatro, arriva a Roma, fa una recita davanti a Mussolini, va al Quirino in un ricevimento, nel libro è un po' più romanzata l'incontro, però insomma va al ricevimento e conosce questo ragazzo, questo ragazzo evidentemente che parlava inglese e gli comincia a recitare poesie. Questo faccio lo racconti, perché adesso devo mandare la pubblicità, però sono curiosissima, io il libro l'ho letto, però vi invito ovviamente tutti a leggerlo, perché diciamo leggete e moltiplicate di Icaro e il volo su Roma, dopo la pubblicità ci racconti come ha fatto Ruth a conquistare Lauro o forse come ha fatto Lauro a conquistare Ruth, pubblicità e dopo una straordinaria storia d'amore. Eccoci qui, stiamo parlando con Giovanni Grasso di questa bellissima storia d'amore che è avvenuta realmente negli anni 30, 17 anni di differenza, lei 44, lui 27, cos'è che li unì? Perché lei cedette finalmente alle lusinghe dell'amore? Perché questo avvenne, no? A 44 anni. Ma io posso solo immaginarlo perché ovviamente non lo so, cioè lui probabilmente, ma è una mia idea, forse è anche stufo, no? Di queste ragazzine contemporanee, poco compagnate, trova questa grandissima attrice, una donna colta, Harry James aveva scritto un monologo per lei, però lei non l'aveva mai messo in scena perché metteva in scena solo le cose sue. Una donna che stava con una presenza scenica enorme, che interpretava da sola, immagino lui l'arte, che era un artista, un poeta, quindi un'incarnazione quasi di una musa sul palcoscenico. Lei probabilmente, appunto come dicevamo prima, forse si era già rassegnata a una vita senza relazioni sentimentali, anzi l'aveva deciso, una vestale del teatro, non doveva avere altre... Trova questo italiano bello, giovanissimo, che le recita le poesie, le incanta, io immagino, ma sarà successo così, che la prende per mano, la porta al foro romano all'alba, sicuramente perché c'è nei diari dei piccoli appunti, la porta a vedere i castelli romani, la riempie di fiori, di parole. E poi c'era anche, secondo me, l'elemento di antifascismo, lei arriva in una Roma, diciamo, occupa, arriva in una Roma ovviamente soffocata dalla dittatura, è ovviamente un'americana libera e indipendente, lui scopre, matura appunto il suo antifascismo e quando lui decide di questa follia del volo, lei rimane al suo fianco? Allora, lei è sempre... Follia però che lo ha reso immortale, quindi... Lei è rimasta sempre al suo fianco, lo ha appoggiato, probabilmente internamente non condivideva, però non l'ha mai ostacolato, almeno così risulta dalle lettere, ma è anche un po' quello che ho sposato io con tesi romanzi. Gli sta accanto, l'aiuta, l'appoggia, non lo contraddice anche se anche lei, soprattutto lei sa che questo volo finirà con una morte, quasi sicuramente. Quindi è... Non è una compagna silenziosa e sottomessa, è una donna che decide capisce che la priorità del suo fidanzato è la libertà e che chiedergli di rinunciare al volo sarebbe stato avere accanto un uomo dimezzato, cosa che lei non voleva. Ecco, secondo me questo è il grande amore, un grande amore di rispetto, eccetera. E anche, devo dirti, le reazioni successive alla morte sono state di grandissima dignità. Lei non ha mai rivendicato come dire, meriti in questa cosa, ma ha sempre aiutato gli italiani esuli, antifascisti esuli in difficoltà finanziariamente. Dico, faccio una sola cosa, Gaetano Salvemini esule, povero, si salva da un punto di vista economico perché Rudreper istituisce con i suoi soldi una cattedra all'Università di Harvard dedicata, di civiltà italiana dedicata all'Auro de Bosis cui il primo professore fu proprio Gaetano Salvemini e questa cattedra c'è ancora in America e vive con i proventi dei diritti con la ricchezza di famiglia. Lui scriveva, peraltro, a volte era brevidisco quando penso in che terribile groviglio ti ho infilata facendoti innamorare di me. Quindi lui era consapevole anche di... Jessica è innamorata in questo periodo per cui... Capisce. Ti sei fidanzata? Io? È la prima volta che durante la pubblicità Jessica fa una chiamata d'amore. Sei un pettegolo. Sei un pettegolo. Va bene così, ma noi siamo felici. Hai chiamato il tuo fidanzato? No, era mamma, era mamma. Era mamma, va bene. Io dicevo che all'epoca la loro storia d'amore fu scandalosa, cioè la differenza d'età fece chiacchierare. Allora, in Italia non fu... Esatto, nota. Non fu rosenata anche perché loro partireanno partirono in America e poi ci fu l'arresto quindi lui... Lo scandalo fu dovuto al fatto che questo rampollo di buona famiglia poi si scoprì che era un cospiratore antifascista. In America no... Infatti anche Lauro nota la grande differenza. In America no. Non facevano una vita... Non si nascondevano. Sì, perché c'è anche nel libro c'è New York, Parigi, degli anni subito prima della Grande Depressione, sono appunto 28-29. Credo che fosse abbastanza... Tutto sommato a Parigi e a New York fosse abbastanza indifferente questa. Magari avranno spettacolato in qualche ambiente, però non destava non destava clamore. Purtroppo a New York in quell'epoca destavano clamore altre storie, per esempio vedere un bianco, una ragazza nera o viceversa. Però sulla differenza di età non... peraltro tu in un incontro racconti un incontro a Parigi fra De Bosis, Ruth e Don Sturzo. Lui era, diciamo così, un antifascista, un esule solo, perché non aveva delle... come è stata solitaria la sua impresa, no? E Don Sturzo dice delle parole che mi fa piacere ricordare. quando essa, la donna, è ridotta in stato di soggezione economica o morale vengono lesi i diritti della persona umana e ciò ripugna allo spirito del cristianesimo. Questa è una storia particolare. Forse si capisce anche come ho costruito un po' il romanzo. Ho cercato di usare il più possibile la verità e dove la verità non c'è perché la storia ha dei buchi la verosimiglianza. Allora, Sturzo scrive queste parole in un articolo... Sturzo è un prete femminista, difende le donne. Scrive in un articolo di quegli anni lì che ho letto mi è piaciuto molto. Allora ho immaginato una scena che sicuramente c'è stata a casa di un amico di Sturzo in cui c'era Ruth Draper e Lauro e Ruth Draper dice senta Don Sturzo ma questa frase di San Paolo che dice le donne devono essere sottomesse agli uomini come la spiega? E Sturzo dice quelle parole dice che è stata sbagliata l'esegesi di quella frase. Quindi Don Sturzo era un femminista voleva che le donne votassero in Italia hanno votato solo dopo il fascismo e quindi ho trovato questo scritto che coevo alla storia di De Bosi e l'ho infilato dentro. Hai fatto bene tant'è che io con grande piacere l'ho ricordato a tutti. Che cosa ti hanno trasmesso Ruth e Lauro e che cosa ti piacerebbe che trasmettessero ai lettori del tuo libro? Allora di Lauro questa passione per la libertà che va sopra ogni cosa. di Ruth che aveva una passione analoga a quella del teatro però la capacità di non imporre il proprio stile di vita al partner pur sapendo che probabilmente sarebbe finita male. Ai ragazzi questo piacerebbe l'impegno di tutti e due cioè bisogna impegnarsi per un mondo migliore sembra una frase fatta lo puoi fare attraverso la politica l'impegno estremo in questo caso per fortuna non dobbiamo difenderci da una dittatura però non dobbiamo mai dimenticarci che ci siamo passati e del resto due anime così belle e così libere non potevano non essere antifasciste e poi lo puoi migliorare anche attraverso il tuo lavoro l'arte il teatro quindi ci sono molte mie passioni lì dentro la politica l'impegno politico la storia il teatro e anche la musica Icaro il volo su Roma un racconto affascinante di un pezzo della nostra storia nel dettaglio che così avevamo trascurato forse troppo a lungo c'è un'ultima cosa che io vorrei far vedere ai nostri telespettatori non so se ti farà piacere ma noi abbiamo bisogno di rivederlo perché era il 27 marzo del 2020 ho capito già tutta l'Italia era in lockdown ho già capito lo ricordate? ho già capito venne trasmesso il messaggio del nostro amatissimo presidente Sergio Mattarella e Mattarella in questo messaggio che aveva appunto si dice in gergo dei fuori onda parlava ad un Giovanni quel Giovanni eri tu lo vediamo stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia scusi avevo un po' di come? è Giovanni non vado al barbiere neanche io quindi questa volta non ripetiamo più una specie di condanna simpatica ti posso dire che lo penso di interpretare davvero il senso di tutti lo spirito di tutti perché quelle parole così semplici così umane così normali in un momento in cui ci sentivamo tutti così soli ci hanno fatto sentire più protetti ci hanno dato un senso di ci hanno restituito un senso di comunità e di vicinanza del presidente a noi e di noi al presidente della Repubblica e quindi che una figura così importante potesse vivere le nostre piccole insomma piccoli problemi quotidiani ci rese veramente si trasformò davvero in un grandissimo moto di affetto è stato veramente un errore perché ancora qualcuno mi chiede ma l'avete fatta apposta dai adesso lo puoi dire no è stato veramente un errore quando è successo mi sono anche molto preoccupato però come si dice c'è che cosa quando hai visto il video no mi hanno chiamato mi hanno detto guarda che stanno uscendo delle cose che non c'entrano fuori onde ho detto mamma mia chissà che sarà successo comunque è querinale dovevamo fare le cose fatte bene è stato sicuramente uno scivolone e delle volte ci sono degli errori che magari poi diventano errori felici ecco ci hanno aiutato in quelle tristissime ore quindi grazie a Giovanni Grasso grazie a voi grazie sempre al nostro lusiano